Vai a cella! Sulle schede c'è scritto donne e figure Numero 84, 91, 94, 78, 76, 49, 39 Allora per favore fate tutte un passo indietro e un passo alla vostra destra Ok? Rilassato frontale Vai, ferma col sedere, torsato Rilassato crudere Grazie, non fanno indietro Ferma, tira il gluteo Allarghi i dorsali, Graziella Tira Carmen Mettiti davanti, ecco così Ferma, rilassato Vai, stai a presidere, gluteo Poi, schiena Vai Graziella, che la schiena Ferma così, Graziella Vai, apri il gluteo Apri, stai giute E, stai어�üd minds E, stai endi lasers Breathe in Rilassato Trioc�� Rilassato Grazie.